Il Presidente Moncalvo ha chiesto una mano al vostro Ministero per assolutare le prossime sfide da... Molti risultati li abbiamo raggiunti in questi anni grazie anche al contributo che la Coldiretti ci ha dato in termini di proposte e di individuazioni degli obiettivi. Abbiamo davanti ancora grandissime sfide, a incominciare proprio qui dalla Lombardia tutta la partita che riguarda l'inquinamento che viene dalla zootecnia, abbiamo il problema ancora del dissesto idrogeologico sul quale abbiamo impegnato molte risorse, abbiamo molti cantieri aperti ma dobbiamo ancora fare di più. Abbiamo la volontà di dare un supporto maggiore a tutto il comparto agricolo anche con interventi nell'ecobonus. La recente legge dei piccoli comuni, che vantaggi possono arrivare da questo? Molti, il Presidente Moncalvo prima ha detto una cosa molto vera, per l'ambiente l'agricoltura è indispensabile. Noi abbiamo bisogno che i piccoli comuni continuino a vivere perché intorno ai piccoli comuni si sviluppa un'attività agricola che è quella che mantiene il territorio. Non esiste un buon ambiente senza una buona agricoltura e non esiste una buona agricoltura senza un buon ambiente. La legge sui piccoli comuni permette di mantenere vivi questi comuni che sono anche poi quelli intorno ai quali si sviluppa l'agricoltura. Ha parlato di risorse e quante ne arriveranno prossimamente per questo? Noi oggi risorse in campo ambientale ne abbiamo tantissime, penso ai 3 miliardi che abbiamo sul dissesto idrogeologico, ai 2 miliardi che abbiamo sulle depurazioni. Non è più un problema di risorse, credetemi. Oggi è un problema di spendere bene e in fretta le risorse che ci sono. Prima domanda, visto che siamo in Lombardia, qui oggi si discute della proposta di legge di utilizzare le cave dismesse per far fronte al problema della siccità. Una sua opinione? Io sono assolutamente d'accordo sull'utilizzo delle cave dismesse per poter fare dei bacini idrici che ci servono quando abbiamo periodi di siccità come è capitato questa estate, sono assolutamente d'accordo. Che sia chiaro però, non è che oggi ci va bene perché veniamo da un'emergenza, poi quest'inverno ce la scordiamo e incominciamo a sponsorizzare, lo dico a certi politici, i comitati locali che non lo vogliono. Perché se no quelle opere non le faremo mai. Allora io dico che sono opere importanti e che sono disponibili a portare avanti tutti i processi che servono per realizzarli. Andare in giro e dire che noi siamo sempre peggio degli altri paesi. Con le energie rinnovabili noi ci abbiamo messo, è vero, molti soldi, ma oggi siamo il paese che ne produce di più in tutta Europa e forse in tutto il mondo. Diciamocelo, ci abbiamo investito un sacco di soldi, siamo stati bravi. L'agricoltura, io vado in Europa testa alta perché ho l'agricoltura di qualità più elevata in tutta Europa. E posso dire ai consigli ambienti e ai miei colleghi che la mia agricoltura emette molto meno CO2 della loro. Allora se siete bravi, diciamocelo, basta andare sempre in giro a dire che non abbiamo... Abbiamo mille problemi, ma diciamoci anche quello che abbiamo fatto. Abbiamo delle eccellenze in questo campo. Dobbiamo continuare, certo, tutte le strategie che il Paese, che il governo sta facendo, mettono al centro proprio i cambiamenti climatici. Se tu vai a vedere la SEM, la strategia energetica nazionale, una volta veniva fatta sulla competitività delle imprese, giusto? Oggi viene fatta sulla riduzione di CO2. Al primo punto vedi riduzione di CO2 perché quello è per noi l'elemento fondamentale, l'elemento primo. E io credo che questa sia, lo dico agli agricoltori in particolare, non è un vincolo, state attenti. Lo dico ai più giovani in particolare. Non vivete le politiche economiche collegate ai cambiamenti climatici come un vincolo. Per voi deve essere l'opportunità perché il futuro è lì. Oggi chi investe nell'economia circolare, anche in agricoltura, chi investe in agricoltura di qualità, sarà più competitivo nella quarta rivoluzione industriale. Se voi ragazzi mi chiedete su che cosa sarà competitiva, qual è la sfida che avete davanti per trovare lavoro nel futuro, per fare gli imprenditori nel futuro, vi dico sicuramente la robotica, la domotica, la digitalizzazione, l'informatica, ma vi dico anche l'economia circolare e le politiche ambientali. Perché lì si farà la competizione fra le aziende. Perché chi fa economia circolare sarà capace di avere una redditività migliore degli altri. E avrete anche la soddisfazione di dire sto facendo qualcosa non solo per la mia impresa, ma lo faccio anche per gli altri, che poi è il simbolo della cultura della Coldiretti. Quindi io credo che questa sia una grandissima opportunità. E poi abbiamo un altro filone, che è quello di adattare il nostro territorio. Allora è chiaro che noi quest'inverno, quest'estate abbiamo avuto la siccità molto forte, abbiamo reagito abbastanza bene. E qui mi voglio prendere un po' di merito, scusa, perché noi abbiamo reagito abbastanza bene, soffrendo in certe zone, perché era un anno che ci preparavamo, perché esistevano degli osservatori che abbiamo costituito otto mesi fa, che hanno permesso di gestire bene fino all'ultima goccia. Abbiamo preso tutti coloro che avevano competenze sulla gestione dell'acqua e una volta alla settimana, da sei, otto mesi, si sono incontrati per vedere quanto dare all'agricoltura, quanto dare agli usi civili, quanto dare alle zone che avevano più bisogno. E questo ci ha permesso non di passare un'estate tranquilla, ma di limitare i danni. Grazie.